I Cavalieri Templari, storia, leggende e misteri. I Cavalieri Templari, noti anche semplicemente come Templari, furono uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali. La nascita dell'ordine si colloca nella Terra Santa al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche scoppiate dopo la prima crociata indetta nel 1096. Le origini. L'ordine fu fondato nel 1119 da un gruppo di nove cavalieri francesi, guidati da Hugo de Peines, che si unirono per difendere i pellegrini cristiani che si recavano in Terra Santa. I cavalieri si stabilirono nel palazzo del Tempio di Salomone a Gerusalemme, da cui deriva il loro nome. La regola. L'ordine fu approvato dal Papa nel 1129 e ricevette una regola, detta la regola del Tempio, che stabiliva i suoi principi e le sue regole di vita. I Templari erano tenuti a vivere in povertà, castità e obbedienza. Erano anche tenuti a combattere per la fede cristiana e a proteggere i pellegrini. Il successo. L'ordine dei Templari crebbe rapidamente in potere e ricchezza. I Templari costruirono castelli e fortezze in tutta la Terra Santa e fondarono banche e istituzioni finanziarie in Europa. La caduta. Nel 1307, il re di Francia Filippo il Bello accusò i Templari di eresia e apostasia. Il Papa Clemente V ordinò l'arresto di tutti i Templari in Francia e l'inizio di un processo. Molti Templari furono torturati e costretti a confessare accuse false. Nel 1312, l'ordine dei Templari fu sciolto da Papa Clemente V. I beni dell'ordine furono confiscati e molti Templari furono giustiziati. Le leggende. I cavalieri Templari sono circondati da numerose leggende. Una delle leggende più famose è quella del Santo Graal, un calice che, secondo la tradizione, avrebbe raccolto il sangue di Cristo. I Templari sarebbero stati custodi del Santo Graal e lo avrebbero portato in Europa dopo la caduta di Gerusalemme. Un'altra leggenda è quella del tesoro dei Templari. Si dice che i Templari abbiano nascosto un enorme tesoro prima della loro caduta. Il tesoro sarebbe nascosto in un luogo segreto, che alcuni sostengono sia ancora oggi sconosciuto. I misteri. La storia dei cavalieri Templari è ancora avvolta da numerosi misteri. Non è chiaro, ad esempio, se i Templari fossero davvero colpevoli delle accuse di eresia e apostasia. È anche possibile che i Templari abbiano avuto un ruolo importante nella storia della cristianità, come custodi di segreti e conoscenze dimenticate. I Templari oggi. Esistono oggi numerose organizzazioni che affermano di essere eredi dell'ordine dei Templari. Queste organizzazioni sono per lo più di natura religiosa o filantropica. Conclusione. Cavalieri Templari furono una delle istituzioni più importanti del Medioevo. La loro storia è ancora oggi affascinante e misteriosa.